ciao bentornati o benvenuti nel mio canale oggi in questo video spacchettiamo insieme l'ultima arrivata in casa una bella plastificatrice a caldo e freddo completa di tante altre piccole cosine che ora andremo a vedere insieme allora la marca di questa plastificatrice max don l'ho presa su amazon ti metto il link direttamente nell'info box l'info box lo trovi aprendo quella freccetta piccola sul lato destro del video è una piccola freccetta in basso tu ci clicchi ci clicchi sopra e si apre un'altra un altro spazietto un'altra box appunto dove io dentro ci scrivo cose in questo caso il link per trovare questa plastificatrice allora come prima cosa troviamo da piano di avvertimento per evitare lesioni personali danni materiali legge sulle istruzioni che sono qui sicurezza di spine e cavi va bene manuale l'istruzione eccolo qui poi questo pacchettino ha due anni di garanzia nel dettaglio vedremo per bene di cosa si tratta ed ecco qui la nostra plastificatrice allora praticamente questa cosina che si sgancia qui serve ad arrotonnare gli angoli molto utile si aggancia qui e anche il coperchio per ovviamente essere svuotata sopra c'è attaccata proprio sulla parte superiore la lama e c'è anche stampato veramente molto utile questo secondo me il righello e ci sono anche gli angoli cioè per fare tutto veramente nella massima precisione senza prendere altre cose qui ovviamente c'è il cavetto d'alimentazione fogli entrano da qui ed escono di qua qui abbiamo il pulsante d'accensione e c'è la possibilità di scegliere la temperatura calda oppure a freddo questa parte c'è questo mentre questo cosino si serve a fare i buchini rotondi poi c'era anche questo kit di cornici ci sono 2 4 6 8 10 clip trasparenti 3 di questi anelli apribili e queste simpatiche davvero carine sono delle piccole cornici di cartone portafoto hanno la tasca già pronte metti la foto classificata e la appendi anche con le clip trasparenti e sono 3 bianche 3 nere e 4 pensavo di aver contato male no sono 4 marroncini 4 poi oltre questo ci sono anche alcuni di questi fogli adesivi per classificare di varie varie grandi varie grandezze 3 grandezze diverse sembrava uno scioglilingo allora sono 1 2 3 4 5 sono 5 formato a 4 poi ce ne sono altri 2 4 altri 5 nella grandezza di mezzo foglio a 4 e altri 1 2 3 5 6 7 10 10 più piccoli ancora e sono praticamente la metà di questo foglio qui ora vabbè nell'info box ti lascio tutte le descrizioni precise dettagliate e tutte le misure soprattutto se ti interessa vabbè loro ti danno queste queste tre come kit di prova poi ovviamente con in base al lavoro che deve fare acquista quelle che che servono perché se devi fare cose piccole ok questi dietro anche uno switch che serve a bloccare i rulli in caso di inceppamento di carta adesso la colleghiamo e proviamo a fare qualcosa dunque collegate cavo alimentazione ho selezionato ott e adesso aspetto che si accenda la spia verde questa è la spia dell'accensione nel frattempo prepariamo il foglio da plastificare utilizzerò una di queste buste del kit a 4 per provare a plastificare questo questo è un menù settimanale che ho stampato con la mia stampante a getto d'inchiostro ok cerco di posizionarlo per bene chiudo adesso ovviamente andremo ad inserire la parte chiusa della busta aspettiamo che si accende anche la spia verde che è ancora più accesa e poi procediamo è arrivata la temperatura si è accesa la spia verde quindi procediamo aspettate che cambio mano prima che mi si inceppa è anche molto silenziosa pensavo facesse più rumore la temperatura si sente pochissimo cioè si sente che si è riscaldata ma non brucia abbiamo laminato il nostro fogliettino ci sono già gli angoli arrotondati quindi non lo posso usare questo qui eh sì perché queste buste che c'erano nel kit sono già con gli angoli arrotondati ma se usate altri fogli adesivi voi potete arrotondare non lo posso arrotondare io vabbè comunque devo dire che l'ha plastificato veramente bene e io avevo qualche dubbio perché questo foglietto questo menu della settimana io l'ho stampato con la mia banalissima stampante a getto d'inchiostro e avevo qualche dubbio perché ho detto magari con l'alta temperatura l'inchiostro si sbiadisce o comunque non rimane intatto e invece sì adesso vediamo di creare qualche altra cosina comunque intanto ok questo va dritto dritto nella mia cucina con un bel pennarello cancellabile quello per le lavagne mi divertirò a organizzare un menù settimanale così giusto per avere un po' più di varietà e avere le idee già chiare non pensare all'ultimo ogni santo giorno cosa mangiamo stasera cosa mangeremo a pranzo vediamo di sfruttarlo un po' questo menù settimanale comunque probabilmente in questi giorni proverò a classificare qualcos'altro ti farò vedere magari se ti va seguimi su instagram sono sempre agatha2hy così li puoi vedere in più o meno in cond... ho rovesciato la colla... più o meno giornalmente cosa creo cosa combino e basta se questo video comunque ti è stato utile ricordati di scrivermelo nei commenti lasciami un segno del passaggio e alla prossima ciao